Ben trovati da Nico Schiodetto, previsioni per la giornata di martedì quando una blanda perturbazione interesserà in prima mattinata le regioni centrali e il basso Tirreno con qualche sporadica precipitazione. Poi questo campo anticiclonico dalla Spagna e dal Portogallo raggiungerà tutto il Mediterraneo centrale nella seconda parte di martedì e lo ritroveremo poi anche metà settimana determinando stabilità sull'Italia, sulla penisola iberica, il sud della Francia con temperature in aumento, le fredde perturbazioni molto più a norte, isole britanniche, Paesi Bassi e Danimarca. Qui proseguirà l'inverno, sull'Italia invece nuovamente in stand by. Ecco la mappa delle precipitazioni in prima mattinata, qualche fenomeno su parte delle regioni centrali, la Sicilia, il basso Tirreno ma subito netto miglioramento per il rinforzo all'alta pressione qui da ovest dalla Spagna. In sintesi quindi una giornata in mattinata ancora di variabilità al centro-sud, poi spazio per il sole anche al nord bel tempo con le temperature in ripresa, quindi in lieve aumento rispetto ai giorni freddi precedenti. Tutti i dettagli precisi scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.